Grazie a tutti. Mi ascolto? Te la ridiamo, però devi ascoltarla. Devi ascoltarla. Lascia lui e non c'entra lui. Lascia lui. Siamo tutti di sui e guarda tu stai. Guarda, siamo tutti. Mi ascolto, tu lascia a terra e andiamo a prendere la tua stanza. Esatto. Cristiano, guarda me. Lascia stare, guarda me. Cristiano, lascia stare. Lascia a terra. Lascia a terra. Lascia a terra. Mi tolgo il cinturone? No, no, no. Tolgo via? Tu, tu, tu sei a me o no? Sì, io ti voglio aiutare. Me lo tolgo, guarda. Lo metto a terra? Vuoi darlo a me? A terra? Sì, sì. Non ti preoccupare, Cristiano. Non ho niente. Lo metto a terra. Grazie.